Buonasera, sono Marinella Vitale e questa sera proverò a dirvi qualcosa su Dante, naturalmente qualcosa perché Dante è una miniera preziosa che non si finisce mai ad esplorare e dove si trovano ogni tanto si trova qualche pepita d'oro. Io sono Ippolita Luzzo, parlo questa sera di Federico Sanguinetti, il suo saggio Le Parolacce di Dante Alighieri, Beatrice è qui una donna in carne ed ossa e dona la sua veridicità e la sua personalità a tutti i canti della Divina Commedia, una nuova interpretazione della Divina Commedia in modo proletaria e non borghese. È tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.